Noi oggi chiediamo a livello, su due piani, da una parte che nel confronto con la regione toscana si produca ovviamente sicuramente una ricognizione su quante persone oggi sono una condizione di un diritto negato che è quello del riconoscimento degli anni lavorati ai fini pensionistici. Quindi una ricognizione che deve partire dalla regione attraverso le ASL e per i parlamentari attraverso l'INPS, perché ovviamente non è una questione strettamente toscana ma riguarda tanti lavoratori in tutta Italia, per arrivare a una legge dello Stato che modifichi la legge 207 che nega a queste persone il diritto di poter accedere alla pensione per gli anni che hanno lavorato effettivamente.